Nella serata di ieri due persone di nazionalità marocchina sarebbero state picchiate ed accoltellate in via dalla chiesa ad Eboli. Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno indagando i carabinieri della locale compagnia. I due feriti, colpiti alla schiena, al viso ed al braccio, sono stati trasferiti presso l'ospedale di Eboli, dove sono stati dichiarati guaribili in pochi giorni.